ehi la salutisti oggi ti proponiamo un succo di frutta straordinario che ti aiuterà a dire addio alla stitichezza a eliminare i chili di scorie intrappolate nell'intestino e ad alleviare il gonfiore e i gas se hai mai sperimentato il fastidio e la frustrazione di questi sintomi sai perfettamente quanto possano impattare sulla vita di tutti i giorni ma non preoccuparti ho una soluzione deliziosa e completamente naturale che rimetterà in sesto il tuo sistema digestivo in pochissimo tempo prima di tutto vediamo cosa succede quando sei stitico o gonfio si parla di stitichezza quando i movimenti intestinali diventano infrequenti o hanno difficoltà a far transitare le feci che spesso risultano dure e secche questo può accadere per una serie di motivi come non si assumono abbastanza fibre nella dieta disidratazione scarsa attività fisica determinati farmaci stress o variazioni nella routine quando sei stitico gli scarti si muovono più lentamente nell'apparato digerente e questo può causare un accumulo di chili di scarti bloccati nell'intestino questo a sua volta può causare gonfiore e gas il gonfiore è quella fastidiosa sensazione di pancia gonfia che ti fa pensare di aver mangiato troppo anche quando non è così il gas è un normale sottoprodotto della digestione ma quando si blocca nell'intestino può causare dolori fastidi e quegli imbarazzanti borbottii allora in che modo i succhi di frutta possono aiutare a risolvere questi problemi alcuni tipi di frutta e verdura sono ricchi di sostanze nutritive che aiutano una sana digestione e possono contribuire a rimettere in moto la situazione ecco alcuni dei protagonisti della nostra ricetta del succo anti stitichezza prugne le prugne secche sono lassativi naturali molto conosciuti grazie all'elevato contenuto di fibre e al sorbitolo un alcol zuccherino che aiuta a convogliare l'acqua nell'intestino per ammorbidire le feci mele ricche di pectina un tipo di fibra solubile che aiuta a regolare i movimenti intestinali e favorisce la crescita di batteri intestinali benefici spinaci questa foglia verde è ricca di magnesio minerale che aiuta a rilassare i muscoli dell'apparato digerente agevolando il passaggio delle feci limone l'acido citrico contenuto nel succo di limone stimola il sistema digestivo e può aiutare a eliminare le tossine zenzero questa radice pungente è stata utilizzata nei secoli per aiutare la digestione ridurre l'infiammazione e alleviare gas e gonfiore adesso che conosci il perché degli ingredienti passiamo alla parte migliore la ricetta ecco cosa ti serve 45 prugne secche snocciolate 1 mela snocciolata e tagliata a pezzetti 1 tazzina di spinaci 1 2 limone sbucciato un pezzetto di zenzero da un pollice sbucciato 1 tazzina d'acqua ti basterà versare tutti gli ingredienti nel frullatore e frullare fino a ottenere un composto omogeneo se risulta troppo denso aggiungi un po d'acqua fino a raggiungere la consistenza desiderata per un risultato ottimale versa in un bicchiere e gustalo subito per ottenere un sollievo digestivo ottimale prova a integrare questo succo nella tua routine mattutina berlo a stomaco vuoto consente al tuo corpo di assorbire i nutrienti in modo più efficiente puoi anche berlo durante la giornata a seconda delle necessità spero che tu abbia trovato queste informazioni utili e istruttive in caso positivo metti mi piace a questo video e iscriviti al mio canale per ricevere altri consigli su salute e benessere inoltre se hai domande o vuoi condividere le tue esperienze sui problemi digestivi lascia un commento qui sotto mi piacerebbe sentire il tuo parere grazie per aver guardato questo video e brindiamo alla salute